Potente appara ragazzi, qua Vax, l'oggio migato, oggi sono il sole e sono qui a presentare questo mio nuovo video che ragazzi è un nuovo wager match abbastanza tattico Perché infatti, anzi no, anzi no, anzi no, prima di iniziare vi volevo ricordare un paio di cose La prima è come sempre che siete interessati a comprare credito di FIFA, vi ricordo di passare da FIFA come stessi il link, lo trovate in descrizione Ma la cosa più importante è questa seconda cosa, perché ragazzi io vi volevo ringraziare, anzi straringraziare Per ciò che voi avete fatto per me ieri sera, che è stato veramente un qualcosa di fantastico Perché ieri sera nello streaming abbiamo raggiunto i 900 spettatori che vi posso assicurare È una cifra fantastica che io pensavo irraggiungibile, quindi noi li abbiamo raggiunti e siamo stati veramente stramagici E poi perché nel pink palli di Candreva, i man of the match, abbiamo raggiunto i 9000 mi piace, oh mio dio Che è una cosa impensabile anche quella, infatti, boh, mi state facendo pensare a cose impensabili Pensate quando siete tattici E quindi, e quindi niente, grazie mille Comunque ragazzi, vanno i sensi, non ciò mandiamo Oggi sono qui a presentarvi il wager match del nuovo man of the match di oggi Di quale giocatore sto parlando? Sto parlando di Miller, i man of the match Perché c'è la i prima, perché si fa riferimento ad international Quindi ora avete capito proprio tutto Che ho pagato la bellezza di 749 mila crediti E andrò a giocarlo, non contro uno youtuber, ma vensì contro un iscritto Con che ho fatto tipo 4-5 wager e ne ho persi 4 Ne ho vinto solo uno Di video forse ce n'è solo uno, non ne sono sicuro Perché gli altri appunto li abbiamo fatti in amiche Senza registrare, se possiamo così finirle Quindi oggi voglio proprio prendermi una rivincita più totale Quindi detto questo, andiamo ad invitarlo E ragazzi, mi sono scordato di dire che è una cosa importantissima Perché se avete visto, oggi non c'è la facecam Perché? Perché oggi è uno dei quei giorni no della mia webcam Che appunto non vuole funzionare Ha dei giorni sì, ha dei giorni no, questo un giorno no Oh mio Dio, questa qua è la sua squadra power and lose Eh beh, io l'ho già vista più volte È molto bella se devo essere sincero Cioè è potente più che altro Andiamo a vederla però insieme Oh mio Dio Devo, devo prendermi questa cavolo di rivincita Porca miseria l'ha cambiata, non era così forte Ma zanna mia Che palle Che palle Madonna, santa ma zanna Gli rimbalza addosso due volte di fila It is not even possible Ok Che fortuna non è giusto Dio santissimo Dobbiamo già recuperare Ma no Bello No, non bello Fa schifo Bravo Vai 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 L'hai visto? Casemiro Casemiro Ma perché mi fa sti diri? Vai Mio Dio Thomas Ah 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 Aspetta che c'è ancora la possibilità Di andare Con Di Maria Con Di Maria Con Di Maria che avanza La mette e me la fa No 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 Ma dai Oh mio Dio Ci arrivi Credici No Vabbè 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 Ormai in sto gioco i gol si fanno solo di testa I minuti saranno già finiti da 6 ore Non fischiare Ti prego Non fischiare No Finito primo tempo Grande Ragazzi Io lo dico Pischi mode L'ho detto Era da un po' che me lo dicevo Era da un po' che non lo dicevo E invece ora l'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho detto L'ho stradetto L'ho stradetto Perché infatti Ora con Müller Thomas No Perché sei fermato Vengono i brividi Non riesco No No Non riesco a ripartire E il suo momento Vai Dai ti prego Di barbo Pensaci tu Iba Oh No Perché sta legnata Perché chiede scusa Ma fai gol al posto di chiedere scusa Che entri sta palla Non ci può provare Ma non è entrata E c'è gol 1-1 Sempre di testa In questo gioco ormai si segna solo di testa Al sessantottesimo David Lewis Dai Madonna Dai Così no No Così Così sì Così sì Dai 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 Non la prendo Non la filano nemmeno i miei giocatori la palla Non sa nemmeno cos'è il calcio Ancora di testa 3 gol 3 gol di testa Ma è possibile fare un gol decente su sto gioco Oddio fammelo Me lo farà 2-2 E non è di testa e sto godendo Sei Dai Dai Oh Oddio Dimmi che rigore ti prego Dimmi che rigore ti prego Ti prego No No Mi ha tracciato i due Era doppia munizione E andiamo E andiamo 3-2 3-2 E' chiusa E' chiusa E' chiusa 4-2 Dimmi che rigore ti prego Sto Miller Signal Arbitro Signora